Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del ferrino triolet 32 più 5, ovvero lo zaino d'alpinismo di casa ferrino. Adesso insieme ne vediamo caratteristiche ma soprattutto pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come solito con qualche caratteristica fornita direttamente dalla casa per questo ferrino triolet. Ha un peso di 1,25 kg ma che si possono andare a ridurre fino a 750 g andando a togliere un po' gli accessori. Lo schienale ha la tecnologia Hollowback System di ferrino ed è realizzato con due tipi di poliestere diverso in base alla posizione. Esiste poi anche nella versione da 25 litri più piccolo e naturalmente nelle rispettive versioni da donna. Adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dallo schienale di questo ferrino triolet. Qui troviamo la tecnologia Hollowback System di ferrino, ovvero uno schienale che va naturalmente a diretto contatto con la schiena, ma che presenta all'interno dei canali da reazione chi si ha diretto contatto con la schiena ma abbastanza traspirante. Devo dire che nel range degli zaini d'alpinismo probabilmente è uno dei più traspiranti in circolazione. Uno schienale poi che andando a diretto contatto con la schiena fa sì che il carico sia sempre ben bilanciato, lo zaino non balla, non ci dà fastidio, anche con grossi carichi nella parte superiore non abbiamo problemi alla schiena. Devo dire che davvero come schienale è fatto veramente molto molto bene. Nella parte inferiore poi per quanto riguarda la fascia lombare, qui è fatto con lo stesso tipo di costruzione, quindi sempre lo stesso materiale con i stessi canali d'aria, quindi a traspirabilità va molto bene. La fascia lombare si può togliere molto facilmente e si può lasciare il semplice cordino per andare a chiudersi lo zaino in vita per evitare che balli. E poi sulla fascia lombare troviamo una tasca nella parte di destra per andare a riporre qualche oggetto e sulla parte di sinistra un anello porta materiale per andare a pennere qualche moschettone eccetera. Nella parte poi anteriore la fascia lombare viene chiusa con una clip molto semplice ma altrettanto efficace. Tutta questa fascia lombare ci permette di poter portare diciamo fino alla dozzina di chili, 10-12 proprio al massimo. Comunque devo dire che anche con 12 chili e magari una bella corda sulle spalle la fascia lombare lavora molto bene e non si sente lo zaino che ci tira lì indietro. Per quanto riguarda gli spallacci, questi sono fatti con una schiuma diversa dal resto dello schienale, bella morbida, bella traspirante, lo spallaccio nella parte superiore ha una sezione abbastanza piccola, ma comunque per non darci fastidio e non essere troppo grosso, ma la vera genialata secondo me è che poi pian piano che scende diventa lo spallaccio sempre più grosso per arrivare sul punto in cui poi andiamo a chiudere la fibia pettorale ad essere bello largo. In questo modo lì di solito cade sul petto, questa parte cade sul petto e lì tenderà sicuramente a scaricare tanto peso. Passiamo a parlare alla parte posteriore vera e propria di questo triolet, iniziando da uno dei due lati. Vi preannuncio che i lati sono simmetrici quindi ne vediamo solamente uno. Cosa troviamo? Troviamo due cinghie per andare a stringere lo zaino, una nella parte inferiore e una nella parte superiore, quella inferiore non apribile, quella superiore invece è apribile con clip. Ma la parte secondo me più geniale è la tasca a soffietto che è stata messa a metà tra queste due cinghie. Una tasca che possiamo portarci benissimo una borraccia, dei guanti, comunque qualcosa che dobbiamo portare con noi, ma all'occorrenza se dobbiamo passare per dei canali molto stretti, abbiamo paura che possa strusciare, darci fastidio su delle pareti, possiamo benissimo andare a togliere gli oggetti e la tasca essendo soffietto andrà a rientrare e sarà come non averla. Quindi veramente una tasca studiata molto molto bene. E poi naturalmente nella parte esterna qua possiamo andare a portare anche degli sci, uno a destra e uno a sinistra. Infine per quanto riguarda la parte laterale, sull'estremità delle due fibie troviamo anche dei passanti per andare ad aggiungere dei cordini dati in dotazioni per poter portare nella parte posteriore il materiale aggiuntivo. Per esempio possiamo portare delle ciaspole, possiamo portare una tenda, possiamo portare dei materassini, eccetera. Una possibilità di aggiungere in più del carico per poter portare all'esterno dei materiali veramente grossi. Passando alla parte posteriore vera e propria. Beh innanzitutto sono sicuro che avrete già visto questa lunghissima cerniera. Una cerniera con due cursori fatta molto molto bene che ci permette di poter aprire completamente lo zaino. Veramente possiamo aprire dalla parte superiore fino alla parte inferiore. Volendo poi naturalmente in base a come vogliamo gestrarci i due cursori possiamo aprirlo anche in una piccola parte in mezzo, solo la parte bassa, eccetera. Quindi devo dire ottima modularità per poter prendere gli oggetti. Nella parte posteriore poi naturalmente abbiamo la possibilità di andare a portare quelle che sono o due piccozze o magari una piccozza dei bastoncini o due bastoncini sdoppiati. Ed infine questa parte posteriore a metà è compatibile anche con un helmet order per andare a portare un casco. Arrivando a parlare della chiusura superiore roll top. Quindi abbiamo una chiusura che ci permette innanzitutto di guadagnare i 5 litri in più, oltre 32 già dello zaino. Una chiusura poi che ci permette di andare a comprimere molto bene lo zaino. Devo dire una chiusura fatta veramente molto molto bene e che poi andando a togliere il cappuccio, che adesso vediamo, ci permette di avere una chiusura efficace anche senza il cappuccio. Appunto parliamo di cappuccio. Ha una sola tasca nella parte esterna. All'interno di questa tasca c'è anche una retina per mettere al sicuro degli oggetti preziosi. Il cappuccio si può togliere veramente molto facilmente perché ha delle semplici clip da andare a sfilare nella parte posteriore e si toglie con una facilità incredibile, idem a rimetterlo. E poi la cosa che veramente mi ha stupito nella cura dei dettagli è che quando andiamo a togliere il cappuccio la parte di cinghia che andrebbe a chiudere il cappuccio la si può riporre in una piccola taschina messa nella parte anteriore. Veramente una cura dei dettagli incredibile. Ma visto che parliamo di parti che si possono rimuovere come vi dicevo all'inizio del video questo zaino può arrivare a pesare solo 750 grammi perché qui noi possiamo togliere un sacco di fibie anche i semplici passanti per andare a tenere le piccozze si possono togliere possono togliere il cappuccio, possono togliere la fascia lombare veramente possiamo ridurre questo zaino all'osso in modo tale da andare a ridurci tanto tanto il peso e questa modularità mi è piaciuta molto. Una chicca poi non da poco è che quando andiamo a togliere il cappuccio abbiamo anche una piccola taschina messa proprio all'interno dello zaino per poter andare a riporci le chiavi o comunque quegli accessori piccolini che di solito andremo a mettere all'interno del cappuccio. Devo dire veramente una chicca molto ben studiata perché senza il cappuccio se no non sapremmo dove metterli. E proprio appena sopra questa taschina è presente anche il sistema Recco per aiutarci in caso dovessimo perderci a farci ritrovare dal soccorso alpino. Per quanto riguarda il comparto acqua possiamo portare all'esterno due borracce nelle due tasche a soffietto. All'interno abbiamo sia la possibilità di portare una vescica con la possibilità di far uscire la prunga sul davanti sia la possibilità di portare pala e sonda. Non abbiamo naturalmente un rain cover perché è uno zaino d'alpinismo ma il materiale comunque è un pochino idrorepellente e in caso avessimo prendere una leggera nevicata il materiale all'interno non si bagnerà. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo ferrino triolè da 32 più 5 litri. Viene venduto da ferrino a un prezzo di 160 euro, online si trova attorno ai 130. Ve lo consiglio? Sì, sì perché secondo me è un ottimo zaino sia nei materiali sia nelle funzionalità. Soprattutto le funzionalità mi hanno stupito perché abbiamo uno zaino completamente modulabile in base al tipo di attività che dobbiamo andare a fare. Vogliamo risparmiare un po' di peso? Possiamo ad esempio eliminare il cappuccio. Non abbiamo bisogno della fascia lombare perché ne ha fare un'escursione con un imbrago? La possiamo togliere. Davvero tutta questa modularità e tutti i dettagli che ha messo ferrino su questo zaino fa sì che io questo zaino l'abbia veramente apprezzato tanto ma soprattutto anche per il suo prezzo. Cioè 130 euro uno zaino d'alpinismo di questo tipo è secondo me un ottimo rapporto qualità-prezzo. E detto ciò ragazzi io ho speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!